Benvenuti cari telespettatori, e cari telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, alla email di vallefoglia-rossinitv.it oppure potrete mandarci un messaggio sui canali social di Rossini TV presente su Instagram e su Facebook. Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo parlando di una segnalazione, quella rilasciata da un cittadino residente da poco nel comune di Montelabate, il quale ci ha denunciato lo stato di abbandono e di incuria presente nella zona vicino al centro commerciale di Apsella. Vediamo. Alessandro sei un cittadino arrivato da poco qui a Montelabate e appena sei arrivato hai trovato davanti a te una scena che magari non ti aspettavi, ovvero quella di lavori incompleti, di una struttura, di una gru in uno stato avanzato di arrugginimento, insomma una scena che non pensavi di trovarti di fronte. Sì esatto, come dicevi tu sono qui da poco e mi trovo davanti a questo, proprio di fronte a casa mia, vedo che state lasciate, forse questa zona aveva dei lavori che non sono stati conclusi da tempo, ma ormai come potete anche vedere è tutto arrugginito, è stato lasciato anche in ordine, però ci sono parecchie ferraglie, questa gruppo forse anche pericolante qui da chissà quanti anni, quindi a livello sia ambientale che a livello civile mi trovo insomma in difficoltà nel vedere ancora queste cose, ora che ci stiamo avviando anche per una svolta diciamo ecologica o comunque di ripristino dei patrimoni o comunque del territorio è comunque non una cosa bella da vedere, forse neanche sicura, dato che la zona qui da tanto tempo mi hanno detto che queste costruzioni sono ferme, andrebbero anche magari valorizzate un po' in qualche modo. Tu ovviamente ti sei informato con i cittadini che vivono qui da prima di te, cosa hanno detto loro? È una situazione che può essere risolta? Loro non sanno cosa dire, vedono che la situazione è così da tanto tempo, anche loro forse qualche anno fa si sono chiesti qualcosa, ma non hanno mai avuto ricevuto risposte di che io ripeto sono qui da poco, quindi ecco l'unica cosa che mi sono sentito di fare è segnalarlo a voi per vedere se qualcosa magari si può muovere in breve tempo. E poi c'è anche la struttura del centro commerciale che non è operativa in molti punti, non si sanno, non conosci magari bene i motivi, però è sempre una situazione di degrado che è presente in questa zona e che potrebbe essere sfruttata in maniera diversa. Esatto, sicuramente qui qualche attività è riuscita a partire per qualche motivo che ripeto ignoro, perché comunque la struttura è qui da tanto tempo, non ha avuto probabilmente lo sviluppo che ci si aspettava, forse con la nascita di un supermercato, non so, c'è una parrucchieria, una piccola palestra, un ristorantino, però ecco tutto quello che c'è sotto ci sono svariati metri quadrati di libertà, di cose che si potrebbero sfruttare a livello sociale, che ne so, economico, adesso anche magari con i nuovi fondi che dovranno arrivare dall'Europa, non so, in qualche modo il comune potrebbe attivarsi per dare uno sbocco di un miglior utilizzo, anche per un po' di degrado, un po' di abbandono, c'è ovviamente un punto anche di raduno serale, nel weekend di qualche ragazzo, che sapete poi magari con qualche bicchiere in più a volte si fa trascinare e non lascia stare quello che dovrebbe essere il patrimonio di tutti, nonostante, perché ovviamente l'abbandono fa un po' questo effetto. Di fronte a casa mia appunto sto in un condominio qui proprio a pochi metri, c'è questo silos, anche questo arrugginito, una cappana degli attrezzi vecchia, ma non c'è niente in costruzione, i condomini sono già stati tutti costruiti, sembra che non ci siano lavori da portare avanti, anche quello sarà lì almeno da 10 anni, 12, non saprei, però è tutto arrugginito, è un punto dove vanno anche i ragazzini a giocare, le persone col cane per farlo un po' divertire, quindi anche quello comunque è un punto che magari è frequentato e potrebbe succedere qualcosa, adesso ci auguriamo di no, però non si sa mai, ma anche soltanto per l'ingombo e per la bruttezza di avere un ingombo, nel mezzo arrugginito direi che sarebbe l'ora di toglierlo in qualche modo. Quindi a chi di dovere può essere il comune o qualche altra autorità, cosa chiedete? Sicuramente di venire a verificare i fatti e poi procedere più velocemente possibile con quello che può essere fatto a livello ovviamente amministrativo, legale, non so, con gli ambientalisti, con un discorso AMI di raccolta di rifiuti, non so, anche perché giustamente i cittadini normalmente pagano delle tasse per far raccogliere i rifiuti, anche loro devono fare una raccolta differenziata, però ci troviamo i comuni e le amministrazioni che lasciano all'abbandono rifiuti per molti anni, anche magari pericolanti o comunque sicuramente non belli da vedere. Dopo mesi di sistemazione, da domenica 24 aprile, sarà visitabile al pubblico il bunker di origine tedesca ritrovato in Via Belvedere a Montecchio. Un reperto storico scoperto a ottobre dal fotografo Bruno Olivi ed Antonella Terenzi che ha di fatto attirato la curiosità di molti cittadini del territorio. Ora il rifugio risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato reso agibile grazie soprattutto al lavoro del Comune di Vallefoglia e del gruppo speleologico di Urbino. Un momento importante per la comunità del territorio che domenica 24 aprile alle ore 16 potrà assistere al rituale del taglio del nastro. Lutto nel mondo dell'imprenditoria è infatti morto all'età di 50 anni il mobiliere Roberto Semprucci, fondatore insieme al fratello Simone del noto mobilificio MCS Mobili di Villa Grande di Monbaroccio azienda leader nella produzione di prefabbricati. Roberto Semprucci aveva ereditato l'azienda da giovanissimo nel 1994 dalle padre Giorgio, fondatore dell'impresa. Il funerale si è tenuto giovedì pomeriggio alle ore 15.30 nella chiesa di Villa Fastigia a Pesaro. E dal primo di maggio per accedere nei ristoranti, nei bar al chiuso non sarà più necessario avere il Green Pass. Una decisione accolta con entusiasmo da parte dei ristoratori e anche in vista della stagione estiva alle porte. Vediamo. Un argomento che è comunque sempre più delicato è quello che dal primo di maggio poi il Green Pass sparirà per poter accedere ai ristoranti. Voi in questo periodo come vi siete comportati? Avete sempre controllato il Green Pass oppure avete tralasciato questa regola? No, le regole le abbiamo cercate di mantenere sempre e applicate rigidamente perché crediamo che nonostante che sia un lavoro supplementare e sia un impegno per il personale crediamo che questo sistema ci ha permesso di non chiudere e questo è importante. Diciamo che noi verso la bella stagione non diciamo dal primo maggio ma sicuramente alla prima decina di maggio iniziamo a usare il giardino esterno dove gli spazi sono molto ampi e naturalmente anche l'esperienza fatta l'anno passato ci erano scelti molti pesaresi proprio per questi spazi aperti, ampi, giochi per i bambini ma principalmente perché riescono a restare molto lontani tra un tavolo e l'altro. Ci siamo sempre tenuti alle regole i Green Pass sono stati sempre controllati le persone comunque arrivavano già preparate con il loro Green Pass alla mano è stata una cosa abbastanza veloce e quindi sì, tutto nelle regole. E finalmente si può dire basta a questa regola che dovete rispettare anche in vista dell'estate quindi maggior gente, maggior complicazione in questo controllo. Sì, finalmente finirà l'era del Green Pass speriamo per sempre e siamo felici di questo perché è stata una dura prova per tutti ma ci avviamo come dicevi alla conclusione e ne siamo super felici. Ormai penso che anche le persone si sono abituate anche perché noi dall'inizio l'abbiamo comunque chiesto quindi la gente è anche contenta sinceramente di sentirselo chiedere insomma il Green Pass quindi non abbiamo riscontrato difficoltà però ovviamente speriamo che dal primo maggio che rimanga così perché poi non è che ce lo rimettono ancora però difficoltà sinceramente la gente ormai è abituata quindi non c'è nessun problema. E con grande attesa a base Tavuglia verrà finalmente inaugurata. Taglio del nastro che è fissato a sabato 30 aprile alle ore 18 dove ai cittadini di Tavuglia verrà ufficialmente mostrato questo spazio interamente dedicato ai giovani dove poter studiare, confrontarsi, guardare film giocare a ping pong, a biliardino e con giochi da tavolo. All'inaugurazione ci sarà come ospite anche il fumettista e illustratore Alessandro Baronciani che canterà i presenti con una delle sue meravigliose performance artistiche. E restiamo in tema di inaugurazioni visto che giovedì 14 aprile è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione pubblica sulla pista ciclabile che dal sottopasso di Morciola conduce a Pian del Bruscolo oltre ad un tratto di tracciato che attraversa il parco di Via della Libertà per poi raggiungere il polo scolastico di Bottega. Sono ben 55 i nuovi punti luci a led installati che illuminano uno dei percorsi più frequentati giornalmente da tantissimi cittadini. Oltre all'impianto di illuminazione pubblica ha incluso anche il rifacimento del nuovo piano stradale che da Via della Libertà raggiunge il ponte in legno sul fiume Foglia ai confini con il comune di Tavuglia e ha comportato una spesa di complessivi 83 mila euro. Il percorso è stato anche interessato da un intervento di potatura e di rimozione delle piante essiccate e pericolose. E sono in arrivo per la città di Vallefoglia i finanziamenti per il recupero e la ristrutturazione delle case rurali. In base a quanto previsto dal PNRR sono in arrivo bandi per circa 600 milioni di euro per la riqualifica degli edifici storici rurali abbandonati o degradati. La Regione Marche è già al lavoro per la predisposizione delle bando che dovrà essere emanato entro il 31 maggio 2022. L'obiettivo che si propone di raggiungere il comune di Vallefoglia è quello di dare nuova vita alle campagne incrementare l'afflusso di turisti migliorare l'aspetto paesaggistico e conservare le radici storiche rurali dell'intero territorio. E dopo due anni di stop è stato approvato lo svolgimento della 43esima edizione della mostra del libro per ragazzi. Sul programma e sulle numerose attività ce ne parla il sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli. Direi che è una manifestazione nel suo genere tra le più importanti delle marche. Non è un caso che ha la sua 43esima edizione. È un fatto culturale, è un fatto di coinvolgimento delle scuole, è importante ed è, diciamo, un impegno anche importante per l'amministrazione anche dal punto di vista finanziario. finanziario si terrà in quella bellissima palestra palafoglia Sesto on the day che è una palestra realizzata da Subissati, bellissima, in legno, nuovissima. E quindi è una, diciamo, mostra che dura una settimana, dieci giorni che impegna quindi tutto il territorio della provincia, il nord delle Marche e quindi speriamo che abbia un buon successo anche quest'anno. È l'avvio della ripresa di una serie di attività, di attività sportive, ricreative, di messaggio verso le nuove generazioni, di molte attività che stiamo provando a rimettere in moto da adesso alla fine dell'anno. Il programma è molto intenso, ci sono laboratori co-involgimento delle scuole superiori, co-involgimento di tutte le scuole locali anche e quindi c'è un programma che è più o meno sulla falsariga degli altri anni come idea di buona prassi, di educazione all'inclusione, alla tolleranza, alla pace, ai valori fondamentali di personaggi che hanno avuto una storia nel nostro paese che noi intendiamo onorare. In questi tempi c'è un problema di educazione alla pace, alla tolleranza, alle buone maniere e anche alla legalità. Le scuole, la moto del libro, ha anche quello scopo lì. E nell'ultima seduta della giunta comunale di mercoledì 20 aprile è stato approvato il programma della Fiesta Global 2022. La tradizionale manifestazione estiva sarà organizzata dall'associazione giovanile Tribal Ex e si terrà come sempre a Montefabri nel periodo dal 14 al 17 luglio 2022. E ha fatto tappa a Sant'Angelo in Lizzola la quarantesima settimana cicloturistica di Gabice Mare. Un percorso organizzato dal gruppo albergatori multiservizi di Gabice Mare che si è fermata martedì 19 aprile a Sant'Angelo in Lizzola dove il sindaco Ucchielli alle ore 10.30 ha accolto la carovana dei ciclisti provenienti dalle diverse nazioni europee e da Stati Uniti e Canada in Piazza Perticari dove il comune e la Proloco hanno allestito un punto ristoro per rifocillare gli atleti a base di prodotti tipici locali. La tappa secondo il sindaco è stata un'ottima opportunità per promuovere a fini turistici non solo il borgo di Sant'Angelo ma anche tutto il restante territorio comunale che i ciclisti hanno attraversato per raggiungere il capoluogo facendo apprezzare le bellezze naturalistiche del paesaggio di questo inizio primavera. E concludiamo parlando di calcio locale partendo dal campionato di eccellenza e dall'Atletico Gallo. La squadra allenata da Mister Mariotti ha disputato due partite nell'arco di cinque giorni ottenendo ben quattro punti complice la vittoria di sabato contro il Fossombrone e il pareggio contro il Sant'Elpidio. Passiamo ora al campionato di promozione dove nel sabato prepasquale sono arrivati due pareggi fuori casa sia per il Cappasporte Montecchio che per il Valfoglia. I biancorossi sono stati fermati dal Cantiano per 2 a 2 ottenendo dunque solamente un punto contro il Fanalino di Coda del campionato con mezzo passo già in prima categoria. Pareggio a reti bianche un punto anche per il Valfoglia che però ha un'importanza diversa visto che è arrivato sul campo del Portuali Calcio Ancona attualmente terzo in classifica. In prima categoria ottima vittoria invece per l'Atletico Tavuglia che con il 3 a 1 rifilato ai danni del Monte Calvo ha ottenuto momentaneamente il secondo posto in classifica a meno 2 dalla primatista Sant'Orso. A meno 7 dalla capolista c'è invece l'Osteria Nuova che con un girone di ritorno fatto fino ad ora di 0 sconfitte è riuscito a ricucire il gap con i primi posti. Partita di sabato conclusa con il risultato di 0 a 0 contro la Pesaro Calcio. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo 29 di aprile e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.